Sono pronta per il quiz sul Marocco. Ciak! Quali sono le lingue ufficiali del Marocco? Francese e berbero. Arabo e berbero. Arabo e francese. Arabo e francese. Berbero e francese. Lo sapevo, dai, vabbè. Arabo e berbero. Grazie, ora l'ho imparato. Come vengono chiamate le calciatrici del Marocco? Gazzelle, leonesse, zebre. Com'era la prima? Gazzelle? Sbagliato. Ma non è già come? Leonesse. Ah, questa è mia nuova comunque. Quali di questi film contiene scene girate in Marocco? Il gladiatore. Interstellar. Top Gun. Top Gun? Oh, ma sono difficili, eh. Che è che le fatte? Il gladiatore. Speriamo che quali sul mondiale sono più pronti. Quale di questi è un piatto tipico marocchino? Riso alla cantonese. Couscous. Hummus. Couscous. Eh. Esatto. Questa l'ho studiata. Contro chi ha giocato il Marocco la finale della Coppa d'Africa Femminile 2022? Nigeria. Senegal o Sudafrica? Sudafrica. Brava. Come si chiamano le tipiche scarpe marocchine? Babucce. Babucce. Sandali. Zoccoli. Babucce. Brava. Questa intelligenza, eh. Qual è la capitale del Marocco? Casablanca, Marrakesh, Rabat. Rabat. Brava. La famosa catena montuosa dell'Atlante, fino a che quota arriva? Meno di 3.000 metri. Oltre 4.000 metri, tra 3.000 e 4.000 metri. Credo l'ultima, tra 3.000 e 4.000? Sbagliato. Oltre 4.000 metri. Se vai in una mamma, cosa fai? Un ballo, un bagno, una cena. Ripetimelo, scusa? Un ballo, un bagno, una cena. Un ballo? Sbagliato. Sbagliato. Quale sarà la prima avversaria del Marocco al mondiale? Corea del Sud, Colombia o Germania? Germania. Brava. Ah, è finito. Ah, vabbè. Poteva andare meglio, studierò un po' al Marocco, speriamo in campo vada diversamente. Ci vediamo sabato a Ferrara per Italia Marocco. Forza Azzurre, non mancate. Be',resham. Be', oh, gosh. Grazie per la visione!